buongiorno o buon pomeriggio dipende da che ora state guardando questo video e io sono alessia lux e come avete visto dal titolo del video appunto altro ordine da wish e mi trovo molto bene questo sito quindi continuerò a ordinare da loro scusa per raffreddore ma sono influenzata soprattutto cose di nail art ma ci sarà anche come potete ben vedere delle cose ben diverse dalla nail art ma di questo ne parleremo successivamente ma soprattutto chiedetemelo qui sotto se volete il video di quella coppetta mestruale se potrebbe essere un video che vi può interessare sto cominciando a essere molto ecologista avevo già cominciato con i pannolini non so se vi ricordate lavabili dei bambini quindi con elisa e quindi passo anche alla versione femminile ecologica delle nostre cose insomma vi dico che mi trovo ancora bene con questo sito uno perché metterà prurible in tutti i suoi pacchetti quasi tutti e vedrete in questo video quelli che non hanno e vi metto tutti i link qui sotto di riferimento dei prodotti e dei negozi dove ho acquistato e vi dico i rimborsi mi sono arrivati sempre tutti di una cosa ho chiesto rimborso e mi è arrivata dopo dieci giorni quindi come c'è scritto anche sul sito me la tengo e vale per tutti quei imborsi che non ho chiesto perché mi sono completamente dimenticata e niente vi lascio al video non vi rompo più e andiamo a vedere nel dettaglio tutto quello che abbiamo acquistato eccoci qui allora vediamo subito questo prodottino di bon pretty e questo marchio mi piace tantissimo questo è uno stamping gel cioè potete usare questo gel sopra i stampini quelli in acciaio o in plastica tipo quello che vi ho fatto vedere nell'altro ordine wish dove c'era anche mia figlia poi e questo l'ho preso bianco perché mi piace più un decoro bianco e poi ho preso questo uv led gel polish che è un quel gel che si utilizza praticamente per fare il rinforzo del semi permanente scusa della voce sempre e l'ho già utilizzato infatti durante il video vi dirò le cose che ho già utilizzato e testato così avete anche già subito il la mia opinione sui test effettuati l'ho provato su mia madre è andato benissimo e lei che ha delle unghie difficilissime che si scagliano molto facilmente ha avuto una resa molto molto buona e è contentissima perché lei tutte le volte io ho messo il gel praticamente è saltato quasi sempre perché c'ho sempre le mani a mollo e non utilizza guanti per i saponi aggressivi eccetera eccetera come tutte le mamme penso e quindi le distrugge e ha avuto una resa eccellente ancora ce l'ha su ma vi metto il link qui sotto poi ho preso sempre brown pretty mi è arrivato in due pacchetti diversi non capisco perché era lo stesso negozio come vi ho fatto vedere dalla busta questo è il foil la glue nail foil quell'etichettina praticamente poi la stacco e la metto direttamente sul flacone perché sul flacone non c'è scritto infatti vedete mi è rimasta attaccata sulla mano manco me ne era accorta me ne sono accorta dopo che faccio vedere la coppetta mestruale e l'attacco sulla boccettina perché perché non c'era scritto sulla boccetta quello che è questa cosa non mi piace tantissimo e quindi ho trovato quell'etichettina sopra la scatolina e ce l'ho attaccata passiamo all'argomento un po diciamo più noioso per le donne forse e per gli uomini proprio non interessa niente la coppetta mestruale va tanto di moda adesso mi ha incuriosito la volevo provare anch'io questa era una di quelle più quotate insomma in tutto il sito è fatta in silicone comunque ipoallergenico e testato quindi dovrebbe essere buona quando la testerò vi dirò insomma la mia opinione ma chiedetemelo qui sotto con un commento perché questo è un argomento molto particolare e non tutte ne vogliono parlare insomma chiedetemelo se volete sapere che cos'è a che serve come si mette eccetera eccetera chiedetemelo sempre qui sotto nei commenti vi ricordo i commenti ci sono apposta per chiedere a me i video che vi interessano di più in modo che vi faccio soprattutto quelli che vi interessano e non quelli che vi annoiano perché è una cosa che insomma non vorrei fare qui abbiamo queste bellissimi foil appunto ho preso la glue foil per quel motivo e l'ho già utilizzata e funziona benissimo non con questi foil ma con un foil che avevo già perché questi mi sono arrivati molto dopo ero molto curiosa ve lo metto nel video successivo purtroppo non so perché mi si è cancellato il video dove attaccavo proprio il foil magari ve lo rifaccio ma il risultato è molto molto carino e questi sono bellissimi vi devo dire che ne vale veramente la pena perché ogni foglietto è lunghissimo è un metro o poco più e quindi sono tantissimi metri di merletti ecco questi erano merletti bianco e nero ho preso anche altri foil stanno alla fine del video se vi interessa e passiamo però a questo che era uno di quelli che aspettavo di più e anche se poi non mi sono arrivate le tip da applicare sopra quindi sto un po rosicando come si dice a roma perché non lo posso utilizzare perché non ho le tip però nel frattempo vi ho fatto un video molto interessante per abbellire questo coso perché vedete sotto è vuoto e non mi piace questa cosa che è vuoto quindi ho cercato di abbellirlo un pochino poi faccio il video anche perché è molto leggero questo cosetto si vede che insomma abbastanza economico anche le calamite poi sono staccate quindi ma vedete tutto nell'altro video non voglio annoiarvi in questo poi mi è arrivata questa mi è arrivata con il pacco ordinario cioè sono dovuta andare alla posta a ritirarlo mi sembra anche giusto perché insomma era una lampada e quindi mi è arrivato con con la posta e come vedete c'è sempre la carta bolle dove c'è la carta bolle il pacchetto arriva integro dove avete visto infatti il pacchetto insomma una bottarella c'è pure qua però è meno di quell'altro quello di prima aveva un sacco di botte infatti perché non mi è arrivata con la carta bolle questa lampada molto interessante l'ho già utilizzata anche questa appunto per la glue foil e non riesco ad aprirla con le dita devo utilizzare sempre una spatolina oppure vedete un tappo di una penna vi giuro una cosa infernale ha dei dentini laterali non si apre infatti a certo punto mi è avuto anche il dubbio che la stavo aprendo nella maniera sbagliata ho guardato le istruzioni e non si apre e quindi non la chiudo completamente perché sennò non la riapro più con la spatolina quella d'acciaio quella che ci si prende la grigel si apre subito ma paura di lasciare dei segni comunque questi sei led fanno il suo il loro dovere e spengo la tv per mia figlia ma tanto voi non la sentite e fanno il loro dovere mi piace tantissimo mi piace il colore sapete che io adoro il verde c'è il suo cavetto usb molto molto comodo un pochino corto per i miei gusti e ma va bene così basta prendere insomma una prolunghina usb e stiamo a posto anche perché se volete attaccarlo alla spina vi serve per forza la prolunga con poi la spina poi ho voluto provare cosa che non ho mai provato il poligel che non è un agrigel ma è il poligel cioè quella versione che era uscita prima dell'acrigel perché molte ne parlano bene e perché più morbido l'acrigel è un po più granuloso soprattutto il cover e quindi ho preso questo colore rosa che non avevo questa era in offertissima mi sembra che non l'ho pagato proprio ho pagato solo la spedizione di 2 euro è vero che è piccolissimo perché 15 ml però avevo anche lo sconto del 5% quindi alla fine l'ho preso lo stesso poi ho preso un pennello e poi lo proveremo quello un pennello che è questo qui delle con le setole più fine sulla punta per fare le sfumature ho preso la misura più grande perché ho paura che quella più piccola mia figlia mi tira che vuole attenzione come sempre perché quello con le setole più piccole avevo paura che non riuscivo poi a fare bene la sfumatura invece più setole sono sono più lunghe più secondo me sfuma meglio poi lo staremo a vedere quando lo testerò vi metterò tutti i link dei video che non ho ancora fatto e quindi non vi posso dire che li ho fatti ma li farò vi rimetto ora il box informazioni sia riesco oppure nella sezione sempre commenti così andate a vedere anche commenti degli altri che tante volte sono utili commenti e le domande che mi fanno gli altri perché magari voi state facendo la stessa domanda invece nei commenti già ho risposto alla stessa cosa oltre a tutto quello che dico perché parlo tantissimo scusatemi per questo ed ecco qua gli ultimi foil bellissimi di natale bellissimi bellissimi cioè devo dire sono belli però sono un po corti nel senso sono solo dopo vi prendo la misura non l'ho rivisto quant'era e adesso vi prendo il metro vi faccio la misura anche questa è una chicca questi non mi sono piaciuti i primi due sono molto semplici ecco qui vi ho preso il metro sono 20 cm ecco 20 cm di lunghezza e quindi è vero che sono tanti sono dieci pezzi quindi alla fine sono tanti però sono tutti diversi quindi penso che se li ritagli singolarmente ci vai anche due volte di ricostruzioni e però se voglio utilizzare gli stessi non ce l'hai più ma ma comunque questi sono quelli mi sono piaciuti di meno sembrano un po bambineschi un po più da bambino anche se la dimensione va abbastanza bene e poi invece gli successivi mi piacciono perché sono molto più definiti molto più carini eccoli vedete come sono belli definiti col bordino nero molto più eleganti ecco quello volevo dire questo ancora di più poi mi si mettono uno sopra l'altro qui ci sono le casette le campane insomma molto molto carini gli ultimi sono quelli che mi sono piaciuti di più adesso ve ne faccio vedere un altro che è rimasto attaccato a uno di prima questo mi piace tantissimo la scritta Merry Christmas ma quella scritta non entrerà in nessuna unghia del mondo perché è gigante quella scritta e quindi non credo sono dieci come vi dicevo perché uno mi si era nascosto sotto ed è secondo me il più bello ora è bianco ve lo metto sotto quest'altro che è grigio anche qui il Merry Christmas è molto grande quindi va messo in verticale o in diagonale sull'unghia del pollice perché è l'unica un po' più grande di tutti comunque mi sono piaciute sono leggerissime ho detto l'unica cosa è che sono un po' cortine però abbiamo tanto assortimento quindi va bene così poi ho preso sempre natalizie i water decalque come li vogliamo chiamare questi sono 5 di un tipo e 5 di un altro anche questi sono rimasti un po' male perché sono veramente piccolini però vi dico che il negozio aveva messo le misure quindi non mi posso lamentare perché ero io che dovevo interessarmi di leggere le misure mi raccomando quando ordinate prima di ordinate andate nella descrizione e dettagli del prodotto perché sono veramente importanti vi rendete conto appunto della grandezza solo quando vi arriva se no e niente con questo ho finito veramente tutto le cose mi sono piaciute tutte non mi è arrivato né le calamite magnetiche che però poi mi sono arrivate 10 giorni dopo ho fatto il rimborso e quindi come vi dicevo me le tengo questa è una l'arte che ho registrato il video ed è molto molto interessante diciamo il metodo della sfumatura penso che sia interessante per voi e la metterò il prima possibile perché non l'ho visto da nessuna parte certo non è venuta un granché perché era troppo glitterato il gel comunque vi faccio vedere due metodi uno è come schiarire i colori e fare dei colori nuovi diciamo e l'altro è come sfumarli a gradazione quindi a degrade spero che questo video come sempre vi sia utile qualsiasi video di test di questi prodotti ve lo metto qui sotto e giù nei commenti quindi vi lascio ai prossimi video questi sono dei video che ho già caricato sul mio sito vi consiglio di accedere alle playlist perché sono tutti i miei video divisi per argomento ed è molto più facile cercare perché ne ho veramente tanti un bacione vi saluto al prossimo video ciao da Alessia Lux ciao ciao